Musica Calcio Serie C, il Gubbio prepara l'ultima di campionato a Padova, decisiva in ottica salvezza I nostri microfoni rosso-blu, burzigotti e calombo Eccellenza, il punto dopo l'ultima giornata, il Bastia festeggia il ritorno in D Fontanelle Branca mantiene la categoria, domenica playoff e playout al Via Basket di regionale, niente post-season per l'Emi Basket Gubbio Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG Dunque il calcio in primo piano perché tutto è pronto per l'ultima fatica stagionale del Gubbio Speriamo che sia davvero tale, domenica prossima all'Euganeo di Padova ai rosso-blu dovranno riportare almeno un punto dal campo della capolista E già promossa in Serie B per non dover guardare i risultati delle dirette concorrenti Fano e Teramo impegnate a Fermo, o meglio con la Fermana e la Reggiana Ma sentiamo le parole sulla partita contro i Patavini e sulla nate Gubbina dai rosso-blu, burzigotti e calombo La partita è importantissima e sarà sicuramente difficile perché comunque sia andiamo a incontrare la prima classifica che è vero che comunque si ha già vinto però sarà tutto lo stadio pieno, loro saranno pronti a fare la festa e penso che per chiunque sarà del Padova sarà bello comunque sia cercare di farsi vedere anche per quello che poi sarà il prossimo anno per loro però noi dovremmo andare con una motivazione che va oltre tutto perché dobbiamo salvarci Io ci tenevo tanto a rimanere a Gubbio proprio perché secondo me l'anno scorso nella prima parte ho fatto vedere un po' quelle che erano le mie qualità nella seconda parte ho avuto meno spazio e ci tenevo comunque sia invece a dimostrare che ci voglio stare qua che qua sto bene, che comunque sia posso dare una mano al Gubbio e diciamo che mi sono messo a disposizione come mi hanno dato la possibilità e ho cercato sempre di dare una mano a tutti i miei compagni Innanzitutto mettiamo fine magari a questa stagione un po' tribolata e poi ci potremo riorganizzare penso per tutti per rifare poi subito, tirarci sulle maniche per una stagione prossima da fare magari proprio da rifare alla grande Padova ha una partita tosta contro una squadra che davanti al proprio pubblico vorrà salutare un campionato fatto in modo eccezionale però noi penso che avremo più motivazioni, più determinazione per guadagnare quel minimo punto che ci consenta la salvezza diretta Noi dovremo approcciare la partita come l'abbiamo approcciata l'ultima che abbiamo fatto a Bassano approcciandola in quella maniera sicuramente possiamo anche portare via i tre punti che abbiamo fatto a Bassano al novantesimo ma anche il punto ci può bastare Ultimamente più che altro, più che non subire gol non subiamo azioni degne di nota degli avversari magari ci sta qualche tiro da fuori dove Volpe si è superato però azioni dove ci hanno veramente messo sotto pressione nelle ultime settimane sono venute molto meno Personalmente penso una buona stagione con più alti che bassi però se non si raggiunge l'obiettivo comune va a buttarlo tutto al vento E torneremo domani a occuparci del gubbio con la conferenza di Sandreani Intanto si disputa domenica prossima alle 15 l'ultimo turno in Serie D il Trestina chiamato a vincere per puntare alla salvezza diretta non avrà in parchina mister Fiorucci squalificato per tre turni dal giudice sfurtivo Fiorucci non sarà in panchina nella decisiva gara con la Pianese e altro assente sarà il centrale difensivo Nonni appiedato per un turno Siamo in eccellenza dove invece è terminato il campionato adesso si disputeranno playoff e playout ma intanto tiriamo le somme con il Bastia che ha vinto il torneo e dunque sale in Serie D e il Fontanelle Branca che per il secondo anno di fida ottiene il suo scudetto ovvero la permanenza in eccellenza Vediamo Di Corsa ha dovuto lottare sino all'ultima giornata il Bastia che festeggia il ritorno in Serie D dopo sei stagioni passate in eccellenza Il successo per 3-1 sul ponte Valleceppi decreta il primo posto finale per i Biancorossi a quota 61 un punto avanti un Maidomo Cannara a cui non è servita la vittoria di misura a Sanzisto La festa inizia il 36esimo del primo tempo cross di Capitan Marchetti inzuccata vincente di Missaglia e Bastioli subito avanti Passano 120 secondi e Marri ispira Urbanelli che a tu per tu con l'illocci non può sbagliare per l'immediato pareggio ponteggiano nella ripresa d'azione d'angolo Nofri tocca con un braccio in area calcio di rigore che Stirati realizza riportando avanti il Bastia e siglando la tredicesima rete in campionato Il gol del definitivo 3-1 arriva nel finale con Bura che deposita in rete a porta vuota facendo esplodere il giubilo del comunale Per quanto riguarda i play-off il Cannara secondo classificato è già in finale in virtù dei 15 punti di distacco dall'Angelana quinta ed attende la vincente di Sanzisto Subasio match a gara secca che si disputerà domenica alle 15 a Sanzisto Per quanto riguarda la lotta salvezza colpo di coda del Fontanelle Branca che spugna 3-2 il campo della Volunta Spoleto conquistando così la salvezza diretta I Brancaioli si portano in vantaggio a fine primo tempo quando Cesaroni si fa prima ipnotizzare da Zandrini ma poi sulla ribattuta serve a cento area Bellucci che d'opportunismo sigla il vantaggio Nella ripresa lo Spoleto impatta con un mancino al fulmicotone di Falconieri che si infila sotto la traversa ma il Fontanelle Branca regisce prontamente trovando prima il gol del 2-1 con Gnagni che da fuori area batte a Leori subentrata Zandrini con un grandestra all'angolino e poi il Tris con l'assolo in contropiede di De Iulis Falconieri con un altro sinistro supersonico nel finale accorcia nuovamente le distanze ma alla fine è il Fontanelle Branca ad esultare conseguendo la seconda salvezza consecutiva nel massimo campionato regionale retrocessione diretta per il Ventinella di Lisarelli mentre play-out fissati per domenica alle 15 si sfideranno Massamartana Petrignano e Castel del Piano Trasimeno e chiudiamo con il basket Serie C Silver la finalissima play-off sarà tra Liomatic Perugia e Lucky Wind Foligno i perugini hanno superato in tre gare Orvieto in semifinale mentre i folignati si sono accontentati di battere due volte Assisi si parte domenica prossima alle 18.30 al pala Fuccià di Ferro di Cavallo in Serie D invece ultima giornata di campionato Amara per l'Emi Basket Gubbio Biancazzurri che cadono 70-62 a Spello e complice la vittoria di Assisi sul parquet di Cannara scivolano al quinto posto in classifica cioè fuori dalla griglia play-off Cannara, Assisi e Gubbio terminano la seconda fase tutte a 26 punti ma la classifica avulsa lascia indietro proprio i Biancazzurri che terminano comunque un'annata positiva che ha visto il basket Gubbio mantenere la categoria e lottare a lungo per i primi posti della promozione è tutto per questa edizione del nostro TG Sport ora lascio la linea al nostro TRG Plus poi ci ritroviamo dalle 21.15 con l'attesa buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.